in questo numero di qui europa magazine case green emissioni zero entro il 2050 intelligenza artificiale via libera alla legge europea auto arriva il regolamento euro 7 via libera dal parlamento europeo alle nuove regole per ridurre il consumo energetico e l'inquinamento del settore edilizio la cosiddetta direttiva sulle case green l'obiettivo è di ridurre progressivamente le emissioni di gas serra e i consumi nel settore entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 la novità più importante riguarda le ristrutturazioni ogni stato membro dovrà adottare un piano nazionale che prevede la riduzione progressiva del consumo di energia degli edifici residenziali con un taglio del 16 per cento entro il 2030 e nel 20 22 per cento entro il 2035 la direttiva si concentra anche sull'eliminazione dell'uso di combustibili fossili nelle abitazioni dal 2040 saranno vietate le caldaie a gas metano dagli eurodeputati italiani pareri diversi sulla riforma non ci sono obblighi per i singoli proprietari di appartamento quindi tranquillizziamo tutte le cose che vengono dette non è così gli stati membri hanno la responsabilità man mano con un piano che presenteranno alla commissione europea di preparare delle azioni per ridurre il consumo di energia nelle abitazioni è stato cambiato l'approccio ora c'è un invito da par agli stati membri a decarbonizzare con degli step intermedi dopodiché noi abbiamo comunque votato contro a questo testo proprio per una questione di metodo perché per quanto ci riguarda l'europa deve essere europa su altri temi la loro la voce dell'europa la vogliamo sentire su tematiche dove ha competenza esclusiva come la tema energetico come il tema geopolitico della politica estera nell'immediato non comporta molto però noi siamo fiduciosi che entro breve lo stato così come richiesto dall'unione europea dovrà prevedere nuovamente dei piani per efficientare almeno gli immobili che sono quelli più energivori e che ahimè vediamo appartengono anche spesso sono abitati dalle persone più disagiate questo che cosa comporterà fondamentalmente un grande risparmio in bolletta per i cittadini che potranno quindi vivere in ambienti più salubri da un lato e che consumano meno energia e ahimè tutti quanti stiamo vedendo soprattutto questo inverno quanto pesa nelle tasche dei cittadini il costo dell'energia il parlamento europeo ha approvato la legge sull'intelligenza artificiale il regolamento frutto dell'accordo raggiunto con gli stati membri nel dicembre 2023 ha ottenuto 523 voti favorevoli 46 contrari e 49 astensioni le nuove norme mettono fuori legge alcune applicazioni che minacciano i diritti dei cittadini tra queste i sistemi di categorizzazione biometrica basati su caratteristiche sensibili e l'estrapolazione indiscriminata di immagini da internet o dalle registrazioni dei sistemi di telecamere a circuito chiuso per creare banche dati di riconoscimento facciale in linea di principio le forze dell'ordine non potranno fare ricorso ai sistemi di identificazione biometrica tranne in alcune situazioni specifiche espressamente previste dalla legge i sistemi di intelligenza artificiale dovranno anche rispettare le norme europee sul diritto d'autore durante le fasi di addestramento dei vari modelli inoltre le immagini e i contenuti audio o video artificiali o manipolati i cosiddetti deep fake dovranno essere chiaramente etichettati come tali i paesi membri dovranno istituire e rendere accessibili a livello nazionale spazi di sperimentazione in condizioni reali la cosiddetta sandbox in modo che pmi e startup possano sviluppare sistemi innovativi e addestrarli prima di metterli sul mercato il parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alle nuove norme per ridurre le emissioni di autovetture furgoni autobus camion e rimorchi con 297 voti favorevoli 190 contrari e 37 astensioni la plenaria di strasburgo ha adottato l'accordo raggiunto con il consiglio europeo sul regolamento euro 7 per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore per le auto e furgoni saranno mantenute le attuali condizioni di prova euro 6 e i limiti delle emissioni di gas di scarico per gli autobus e gli autocarri saranno applicati limiti più rigorosi per le emissioni di gas di scarico misurate in laboratorio e in condizioni di guida reali pur mantenendo le attuali condizioni di prova euro 6 per la prima volta le norme includeranno i limiti delle emissioni di particelle di freno le cosiddette pm 10 per le automobili e i furgoni e i requisiti minimi di prestazione per la durata delle batterie nelle auto elettriche e ibride per ciascun veicolo sarà messo a disposizione un passaporto che conterrà informazioni sulle sue prestazioni ambientali al momento dell'immatricolazione gli utenti avranno inoltre accesso a informazioni aggiornate sul consumo di carburante sulla salute delle batterie sulle emissioni inquinanti e su altre informazioni generate dai sistemi di bordo